Sono morto con altri cento, sono morto per un bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Arpit c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Arpit tante persone, ma non solo, grande scienze, è strano, non riesco ancora a sorridere in al vento, a sorridere in al vento. Io chiedo, come può nuovo, uccidere uno suo fratello, e due siamo a milioni, in polvere nel vento, in polvere nel vento. Ancora buona il cannone, ancora non è contento, il vento, di sangue, la velva umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà, potrai sparare, a vivere, senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, quando sarà, io chiedo, quando sarà, quando sarà, che l'uomo potrà imparare, a vivere, senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Grazie. Grazie.